La prefettura di Pordenone ha attivato il piano di ricerca per persone scomparse per ritrovare James David Lovry, nato a Vicenza il 5 gennaio del 1978, cittadino statunitense scomparso dalla sua casa di Sedrano, frazione di San Quirino. Si sarebbe allontanato dall'abitazione verso le 14.30 di lunedì 5 agosto. È stata trovata dalla compagna dell'uomo con la porta d'ingresso aperta e con molte macchie di sangue all'interno. Il furgone con il quale l'uomo si sarebbe allontanato è stato trovato a Cordenons, vicino alla piscina comunale. Lovry ha 47 anni, alto 1,85 metri, ha i cappelli chiari, castani, corti e molti tatuaggi, in particolare un crocifisso sul petto e una croce sulla schiena. Chi avesse informazioni è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine attraverso il numero d'emergenza 112. Ricerche tuttora in corso.